Noi dobbiamo andare alle elezioni, noi vogliamo mandare a casa tutte queste persone, tutti a casa, rifacciamo questo paese con un governo 5 stelle. Scusami, sei mio amico? È vero? Fammi parlare, poi ti faccio gridare quando vuoi. È brasiliano, li hanno incazzato come una iena. Gli hanno venduto la telecom brasiliana, l'unica cosa che funzionava della telecom. Allora, sta a sentire, il discorso è questo. Noi ci presenteremo alle elezioni, che siano adesso, che siano fra un mese, fra quattro mesi, noi siamo tranquilli. Siamo tranquilli perché vogliamo mandarli a casa, fare un'indagine fiscale su ognuno di loro prima che lasciano il paese, riprenderci questo paese in macerie, portare prima delle elezioni 10-15 persone di moralità alta, di intellettualmente onesti, di persone perbene, che prenderanno le macerie di questo paese e cercheremo di risolvere alcuni di questi gravissimi problemi. La prima cosa che noi dobbiamo fare è questa, ragionare in un altro modo. Ragionare le priorità non sono queste. Allora, con questi soldi non c'è nessuna crisi di governo, non c'è nessuna crisi di governo. La crisi è del popolo italiano che non riesce più neanche a capire cosa sta succedendo. Siamo stufi, io ti parlo come cittadino, io sono stufi, va bene? Sono stufo di parlare di queste cose, va bene? Allora, andiamo alle elezioni e poi sarà il popolo italiano a giudicare. Allora, andiamo alle elezioni e poi sarà il popolo italiano a giudicare.